ciao a tutte benvenute in un altro mio video oggi voglio mostrarvi come avete letto senz'altro da titolo qualcosa che ha a che fare con uno dei 50 prima di iniziare vi ricordo se vi fa piacere di iscrivervi al mio canale di lasciarmi qualche like di commentare e attivate pure la campanella per ricevere le notifiche essere avvertite ogni volta che esce un mio nuovo video iniziamo subito una mia amica marianna ti ringrazio marianna piras che non ha un canale che vi scriverò qua sapendo della passione che avevamo sia io che daniela del canale e la fashion ci ha procurato da una sua cara amica che aveva un negozio che rivendeva appunto uno dei 50 e ha chiuso qualche anno fa ci ha procurato questo gioiello che adesso vi faccio vedere niente quindi oggi ve lo mostro vi dico già come appunto anticipato dall'inizio non è in vendita essendoci piaciuto effettivamente non sai poi l'utilizzo che gli vuoi dare io oggi vi mostro come lo voglio utilizzare allora questo è il lucchettone di uno dei 50 questo è il diciamo l'espositore che danno nei negozi nelle gioiellerie che appunto rivendono il marchio uno dei 50 io ho in mente di non appenderlo al bracciale perché adesso vi mostro subito io oggi ho messo tutti gli altri miei bracciali uno dei 50 proprio per farvi vedere nel dettaglio i lucchetti allora questo qui che il bracciale con le palline giganti ha questo lucchetto vedete che i lucchetti hanno poi quest'anellino essendo molto pesante non avendo lui l'anellino io ho in mente di utilizzarlo come catenina perché poi rimarrebbe in maniera errata nel bracciale quindi vi mostro subito come lo attaccherò e in che collana ecco qua il lucchetto come potete vedere è gigantesco avevi ragione tu daniela e vi faccio vedere la differenza con quello che appunto c'è nel bracciale vedete che mettendolo qua qua dico un bracciale in generale non è bello perché rimane in maniera errata rispetto a come deve rimanere proprio perché non ha quest'anellino ho deciso quindi di metterlo a mo' di collana questo è un ritaglio del tessuto che ho utilizzato per fare le sciarpe quindi la check e simil barberi l'ho voluta mettere così adesso me la faccio a lunghezza ecco penso di lasciarla così ovviamente si può fare in tanti modi intanto qui si può anche non sciogliere il nodo volendo potrei anche cucirla ma oggi la sto facendo in fretta quindi la taglio così ok è una volta che si vuole elevare è semplicissimo e possiamo mettere anche la microfibra o altri comunque ritagli vi faccio vedere mi piace la lunghezza è giusta niente fatemi sapere se vi piace l'idea di portarla così a collana questi sono tutti i gioielli che ho di uno dei 50 poi una volta che la voglio togliere io potrei anche cucirla si può snodare da qui oppure allargare e far passare di nuovo da qua niente questo video velocissimo termina ovviamente questo gioiello che vi ho fatto vedere non è reperibile perché ve lo dico per certo perché noi non sapevamo neppure l'esistenza e tramite altri negozi che appunto rivendono questo marchio ci hanno fatto sapere che appunto è impossibile è vietata la vendita o comunque regalarlo a noi è stata fatta appunto l'eccezione perché questa ragazza non avendo più il negozio dei suoi espositori poteva fare ciò che voleva la collezione sia mia che di daniela si è arricchita con questo gioiello qui spero che vi piaccia e niente magari in futuro l'azienda li metterà anche in produzione anche perché sono uguali a quelli che si trovano nei bracciali che si trovano anche nei chiudipacco e anche lì non tutti danno il chiudipacco in omaggio quindi dipende poi dal negoziante e niente vi faccio vedere in velocità il mio outfit vi faccio vedere nel dettaglio i bracciali ed eccomi qua l'outfit di oggi è semplicissimo adesso qua si vede l'accetto dei pantaloni già sono belle in carne ho un pantalone in caldo cotone grigio di zara le mie solite scarpe grigie e il maglioncino di h&m con le maniche a sbuffo che ho anche in rosso sopra ho voluto mettere questo teddy di motivi avete visto 50 mila volte e come borsa questa di michael kors grigia quindi mi è piaciuto molto il contrasto del grigio con questo colore lo sapete spesso faccio così niente il video dove vi faccio vedere l'outfit e termina qua vi lascio ai saluti e agli accessori e rieccomi qua allora il profumo che indosso oggi è sempre questo queer di equivalenza creed aventus il profumo quindi il dupe di quel profumo lì questo è quello da borsetta che fanno in diverse colorazioni per quanto riguarda invece il rossetto rossetto ma il lip o il sono uscita in velocità ieri non l'avevo di conseguenza o questo qui come orecchini o i miei orecchini di ambrosia e i cerchietti in oro giallo per quanto riguarda i bracciali ho qui le polluoce da 42 il bracciale uno dei 50 con le palline grandi e lucchetto il bracciale rigido il cordino con lucchetto il bracciale con le palline piccole che è identico e gemello di questo è quello con le pepite dove ho attaccato la mia iniziale come anello ho voluto mettere solo questo in questo lato le fedi e poi il diciamo l'orologio l'apple watch da 38 il bracciale di marlou i due braccialetti di rebecca con la piastrina con la m e la piastrina col simbolo 50 e il campanellino un bracciale di stroili con i cubetti uno di di souffil con la foto mia e di mio marito uno di simil cartier e poi questo di rebecca con la personalizzazione col nome del mio canale basta vi ho fatto vedere tutto questo video termina qua spero comunque di avervi tenuto compagnia e noi ci vediamo domani con un altro video